Oggi presentiamo questa campagna, la campagna viva che arriva alla terza edizione. Quest'anno è dedicata ai bambini, si chiama Kids Save Lives. È una campagna di sensibilizzazione sulla reanimazione cardiopolmonare. Come sapete la sensibilizzazione è molto importante sia per prevenire, soprattutto per prevenire, ma non solo, perché in alcuni casi è importante intervenire al momento e di queste settimane, insomma anche alcuni fatti di cronaca che purtroppo abbiamo vissuto in città. È importante in previsione anche della presenza, per esempio, degli apparecchi che dovrebbero essere obbligatori in tutti gli impianti sportivi e negli edifici pubblici. Però per poterli usare è necessario anche saperli utilizzare. Quindi campagne come questa sono importantissime, soprattutto iniziando dai più giovani, per poter in futuro prevenire e intervenire al momento opportuno. La campagna arriva alla terza edizione, la giornata di domani è in contemporanea in tutta Europa e a Cagliari si svolgerà ai giardini pubblici. Viva la settimana per la reanimazione cardiopolmonare! Giunge quest'anno la terza edizione. L'anno scorso abbiamo fatto numeri importanti, siamo arrivati a circa 5.000 persone informate e sensibilizzate, persone dall'età più tenera, anche dai 5 anni. I bambini sono molto curiosi, quindi molto sensibili, e tra l'altro sono delle spugne, quindi apprendono molto facilmente e sensibilizzano a loro volta gli adulti, i genitori. Abbiamo fatto diverse giornate, siamo partiti l'anno scorso dalla Piazza Sansepolcro a Cagliari per poi continuare nella Via Garibaldi, in giro per Cagliari. Quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo iniziato prima rispetto alla settimana tradizionale della reanimazione cardiopolmonare che va dal 12 al 18 ottobre, con eventi che hanno iniziato l'attività in giugno, per poi proseguire e iniziare con la vera settimana lunedì 12 presso l'Unione Sarda, che ci ha ospitato. I prossimi eventi sono appunto quello di domani, venerdì 16, che è la giornata europea per la reanimazione cardiopolmonare dei giardini pubblici, come ricordava l'assessore. Parlo un po' di numeri, se posso, parliamo dell'arresto cardiaco, che è il nemico che noi andiamo a contrastare, per cui sensibilizziamo alla reanimazione cardiopolmonare. 600.000 sono le vittime in tutta Europa, in un anno. Parliamo di, in Italia, circa 60.000 è la quota di persone che ogni anno sono vittime dell'arresto cardiaco, quindi un numero approssimativo è di 1.000 vittime al giorno in Europa. Questo significa che, diciamo, è come se cadesse ogni giorno un giambo pieno di persone. Questi sono i numeri, noi ci auspichiamo intanto, grazie ai moduli che sono orientati alla formazione, all'educazione dei più giovani, di riuscire quest'anno in Sardegna, partendo da Cagliari, tutto l'anno a formare diverse migliaia di persone, diverse migliaia di bambini, a sensibilizzarli tramite moduli dedicati, quindi le fiabe, giochi interattivi, come il gioco Relive, che è uscito l'anno scorso in occasione del ventesimo anniversario della fondazione di IRC, dell'Italia Resuscitation Council. Va bene la diffusione dei defibrillatori, sarebbe l'apoteosi. Prima ancora insegniamo alle persone a fare le manovre che si possono fare senza l'utilizzo di un defibrillatore, quindi il massaggio cardiaco, ma prima ancora esiste una catena della sopravvivenza, così viene chiamata, che prevede, costituita da quattro anelli incatenati tra loro, il primo dei quali è l'allarme precoce, quindi l'allarme immediato, l'allerta dei soccorsi, il secondo la rianimazione cardiopolmonare precoce, il terzo la defibrillazione precoce, e questi sono i tre dei quattro anelli che sono competenza di tutti, di tutte le persone che vengono formate e vengono educate a farlo. Esiste poi il quarto anello della catena, che è l'ALS, quindi il soccorso avanzato, che è di pertinenza a pannaggio del personale medico. Ora, riuscire a soddisfare i primi tre anelli della catena significa avere una percentuale di successo altissima. Parlavamo prima di numeri, su 60.000 persone che muoiono in un anno in Italia, pensate che il 70% di questi arresti cardiaci è testimoniato, quindi avviene in presenza di qualcun altro. Se noi riuscissimo a far sì che di quella quota, di quel 70%, una buona parte, magari l'ideale sarebbe tutto il 70%, quindi tutte le persone che sono testimoni di un arresto cardiaco riuscissero a fare la rianimazione cardiopolmonare, la percentuale di vite salvate aumenterebbe in maniera esponenziale. La parola d'ordine di quest'anno è focalizzata sugli scolari, sui bambini. Come è stato già detto, lo diciamo in italiano, i bambini salvano le vite e quindi la società scientifica, partendo da questa premessa, cioè la rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, per essere più sbrigativi, praticato immediatamente e con insistenza, quindi in maniera precoce, triplica o quadruplica le percentuali di sopravvivenza. Allora, la nostra società scientifica italiana, Italian Resolution Council, che compie il ventunesimo anno di attività, che cosa propone? Ha proposto al Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione di entrare nelle scuole con le società, con i centri di formazione che fanno rete in tutta Italia e anche in Sardegna, per tre livelli di istruzione. Un livello per le scuole elementari, uno per le scuole medie e uno per le scuole superiori. Si tratta di dare che cosa ai ragazzi? Nel primo livello due ore di formazione all'anno, chiaramente ci sarà bisogno della collaborazione dei docenti, delle scuole, che sono i migliori per avvicinare i ragazzi con i quali vivono tutto l'anno. Quindi istruire i ragazzi su che cosa? Sulla conoscenza di se stessi, dei motivi di pericolo e poi chiaramente anche delle soluzioni praticabili con videogiochi o con fabole cartacee o anche delle applicazioni. Ormai tutti i ragazzi hanno il telefonino, applicazioni per i telefonini o con i giochi di ruolo. Questo è il livello base. Nel livello superiore scuole medie, oltre ovviamente il livello di base, si parlerà di simulazione a piccoli gruppi oppure di commentare fatti di cronaca del giorno. Cioè gli incidenti che succedono e che magari andando a ritroso i ragazzi scoprono il perché o il percome o trovano le soluzioni. Nell'ultimo livello, quello che va dagli 11 ai 19 anni, praticamente tutti i livelli precedenti, quindi dalle cose elementari sui pericoli, sul corpo umano, sulla gestione di un'emergenza e quindi al vero e proprio corso che forma i ragazzi ormai quasi adulti al primo soccorso e alla defibrillazione. Medico d'emergenza, mi occupo di formazione sia di personale sanitario che non sanitario, quindi di personale laico e partecipo anch'io alle giornate viva. Naturalmente per questioni di lavoro non riesco a partecipare a tutte le giornate ma diverse e mi sono divertita perché le persone si avvicinano, sono curiose anche perché ogni giorno alla cronaca saltano ragazzi di 12 anni, di 15 anni, 15 anni e mezzo, quindi persone ancora in giovane età che avevano tutta la vita davanti che vengono colpiti dal resto cardiocircolatorio. Premesso che non è questa la posizione in cui normalmente si fa una rianimazione ma si fa in ginocchiati per terra, quindi per comodità lo teniamo su. Questa è la persona vittima dell'ipotetico arresto cardiocircolatorio, una persona che ha perso coscienza davanti a noi. Quindi la prima manovra è verifico la coscienza, quindi lo chiamo, lo tocco, lo scuoto. Quindi mani qui sulle spalle. Signore, signore, mi sente? Signore, come sta? Sta male? Aiuto, mi porti, chiama il 118, portami un defibrillatore se è presente qua sul posto. Lo allineo qui, è benino, apriamo, non c'è niente dentro la bocca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Avvisa che il paziente è in arresto cardiocircolatorio e io comincio le manovre di rianimazione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici. In questa struttura esiste un defibrillatore? Il 118 è stato allertato, fra quanto arriva? Se avessi un operatore che sa massaggiare... Chiedere aiuto. Rimuovere un indumento dal torace del paziente. Scusa ma lui è andato in un momento. Non toccare il paziente. Ok, tutti via, tutti via, lontano, sto per erogare lo shock. Tutti via è pericoloso, nessuno si avvicini. È molto pericoloso, devo erogare lo shock, nessuno si avvicini. All'anno, tutti lontano. Allontanarsi, premere il pulsante B, shock somministrato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e andiamo avanti. Grazie. 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 Grazie.